Tornano le giornate d'autunno del FAI, nei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, un percorso sulle tracce di quest'artista? Sì, allora come FAI quest'anno abbiamo proprio organizzato un percorso per la celebrazione del 450esimo anno dalla morte di Giorgio Vasari in linea col comune di Arezzo che organizzerà in tutto quest'anno varie mostre e eventi relativi a questa celebrazione. Qual è l'itinerario seguito? L'itinerario seguito partirà dal Teatro Vasariano che è una cosa di solito non vista, quindi comunque è un luogo che il FAI riscopre. È utilizzato attualmente dal Liceo Musicale di Arezzo, comunque è il primo teatro che è stato realizzato ad Arezzo, progettato appunto da Giorgio Vasari insieme al Palazzo delle Logge. Venuto Piero in Arezzo dipinse per Luigi Bacci, cittadino aretino in San Francesco, la loro cappella dell'altar maggiore. La volta della quale era già stata cominciata da Lorenzo Di Bici. E poi seguirà la mostra alla Fraternità dei Laici, sempre dedicata al progetto della Loggia del Vasari. Abbiamo tanti turisti per l'occasione? Tantissimi, in effetti siamo contenti perché la partecipazione è stata molto ampia, come sempre, insomma ci piace realizzare questi eventi che comunque sono una grande vetrina per Arezzo e soprattutto per la cultura e per l'arte. Grazie.